Consigliere Gallo, l'amministrazione come sempre è vicina ai progetti per tutelare i giovani. In questo caso si parla di sicurezza stradale e di prevenzione. Sì, l'amministrazione non poteva che essere vicina ad un progetto, ad un'iniziativa dal così alto valore sociale e culturale. Noi amiamo i nostri giovani, amiamo tutto ciò che viene fatto per i nostri giovani ed un grande grazie va all'associazione Stanza di Gio che ha avuto un'idea così importante, un'idea dal così alto valore sociale. Noi speriamo che sia soltanto l'inizio di una serie di progetti, di iniziative che tendano a stare vicine ad aiutare i nostri giovani. Ripeto, l'associazione Stanza di Gio ha ringraziato l'amministrazione ma in realtà siamo noi che ringraziamo Stanza di Gio.